Buon 2021 a tutti, sono le ore mezzanotte e diciassette del primo gennaio 2021 dal The Bulldog International Research Center, tanti auguri a tutti, buon 2021. Questo è il cartello conclusivo dell'anno 2020 delle ricerche del Bulldog International Research Center, che è esposto sul balcone qua al piano d'alzato. Tanti auguri a tutti, buon 2021. Adesso, chissà quanti colpi sono inesplositi lì, l'acqua. Sì, stanno facendo un casino della Madonna. A Storno, finito i fuochi, i carabinieri vedevano dappertutto, avevano l'aria, quelli pochissimi. Sì, sì, no, ma questi sono più piccoli. Quelli erano proprio i fuochi artificiali. No, questi non sono fuochi artificiali. No, non hai visto. Però, stanno facendo un casino della Madonna. Non l'hai visto qua. Qua hanno fatto stellino. Sì, sì, stanno facendo un casino della Madonna. Buon 2021 a tutti.